Siamo con White Stanford, dagli Stati Uniti all'Italia, una storia di vino. Sì, io sono arrivato nel 2006 per fare un Master con Slow Food e mi è piaciuta la cultura, era molto calda, la prima volta in americana senti una barba con due baci e cambia la vita. È una cosa che non ho mai fatto, non ho mai fatto questa esperienza prima di qui. Ho incontrato un ragazzo da Ascley e abbiamo pensato di fare vino insieme. Abbiamo iniziato da zero, impiantato sei ettari di vigneto e per fortuna siamo qui a Mirano con la nostra prima vendemmia che era nel 2010. Dov'è l'azienda e il nome? Siamo nelle Marche, nel sud parte delle Marche Ascley Piccinò, vicino a Rofida. Il nome è PS Winery o Cantina PS. Un futuro Un futuro Un futuro Un futuro Grazie.